I 60 secondi di oggi sono dedicati al tema dei temi, le bollette. Ormai se ne sono accorti tutti. Qualche giorno fa Calenda chiedeva di bloccare la campagna elettorale per parlarne e lo prendevano in giro. Oggi ci stiamo rendendo conto che questo è il tema. Saltano le famiglie, saltano le imprese, ma non riescono a pagare le bollette, neanche i centri sportivi o le realtà del volontariato o i bar, i negozi, le botteghe storiche. Cosa bisogna fare? Mettere un tetto europeo al costo del gas, lo abbiamo detto. Chiedere al GSE di acquistare l'energia investendo 10 miliardi di euro dal bilancio dello Stato. Ma soprattutto votate persone che siano nelle condizioni di raccontarvi perché negli anni scorsi dicevano sempre di no. No alle trivelle, no al TAP, no al gas in Adriatico. Noi siamo gli unici che su questo non hanno soltanto le soluzioni per il domani, ma hanno la credibilità di aver fatto le battaglie giuste negli anni passati.